Ciao a tutti merdoni, come va? Spero tutto bene. Oggi, in esclusiva mondiale, sul canale del capobastone, potrete assistere ad una cosa, allucinante. Come già saprete, mancano ancora cinque mesi, prima dell'uscita di Grand Theft Auto V. Saprete anche che, i ragazzi della Rockstar Games, hanno le braccine corte e non hanno ancora rilasciato, un cazzo di niente. Un paio di trailer, e qualche artwork, sicuramente sono poca cosa, in confronto al mastodontico gioco, che sta per uscire. Siccome sono un dio duono, oggi, vi mostrerò, ben otto nuovissimi screenshot, in anteprima mondiale. Questi screen, me li ha inviati, Sam Houser, il presidente della Rockstar Games, ma prima di mostrarveli, devo avvisarvi che, potrebbero essere presenti degli spoiler, quindi, se avete paura di rovinarvi la trama, fermate qui il video, e andate a farvi una sega. Penso che sia tutto pronto, preparate i cazzi, perché, questi screen, sono qualcosa di allucinante, tanto che la Game Informer, starà rosicando di invidia, per questa anteprima. Buona visione. Allora, la prima notizia ufficiale, è che il gioco sarà disponibile anche per Game Boy Color, tramite cassetta. Il gioco, avrà la stessa grafica della Xbox 360 e PlayStation 3. Per quanto riguarda la versione PC, i programmatori hanno dichiarato che, il gioco, è troppo complesso, e vasto, per poter girare su qualsiasi PC attuale. Ed ora, passiamo agli screenshot veri e propri. Il primo, fa parte delle missioni dinamiche del gioco. Ogni tanto, vi capiterà di incontrare Nico Bellic, il protagonista di Grand Theft Auto 4. Lo troverete seduto sui cartelli stradali, mentre parla, di quanto faccia cagare Grand Theft Auto 4, e di come vorrebbe vivere in questo capitolo del gioco, e non, in quella merdosa città circondata dal mare. Se vi avvicinerete, scatterà la missione. La missione, consisterà, nell'accompagnare Nico, verso il confine dello Stato, e di farlo uscire dal paese, a calci nel culo. Una volta completata, vi chiamerà suo cugino, chiedendovi se volete andare al bullying con lui. Usate la tannica di benzina, di Trevor, e bruciate il cellulare. Passiamo al prossimo screen. Questo screen, fa parte di una missione primaria, in cui si scoprirà che Trevor, in realtà, è un cyborg venuto dal futuro. La sua missione, sarà quella di proteggere Michael, da una razza aliena, che vorrà sondargli il culo. A sua figlia, invece, la cosa piacerà parecchio. Ma andiamo avanti. Come già saprete, in questo nuovo capitolo, sarà possibile esplorare anche i fondali marini, dove ci sarà una vera e propria fauna locale. Tra le specie che potrete incontrare, ci saranno anche le piobre giganti. Se riuscerete a catturarle, tramite la fiocina, potrete fare una bella grigliata di pesce in giardino. Next. In questo screen, si possono ammirare la visuale dall'alto, di moltissime auto. I più svegli tra di voi, avranno già riconosciuto moltissime macchine, del primo GTA. Ci sono auto storiche, come la limosina, l'autocarro che trasporta benzina, il furgone della televisione, il camion dei pompieri, eccetera eccetera. Insomma, avremo un parco auto davvero notevole, e con questa grafica, sarà davvero uno sballo viaggiare per il paese. Next. I programmatori, hanno più volte smentito le voci, secondo le quali, i vecchi personaggi dei precedenti GTA, avrebbero fatto la loro comparsa in questo capitolo, e invece, saranno presenti tutti. In questo caso, potete vedere Claude Speed, mentre manda a fanculo Franklin. Si scoprirà, nel corso della storia, che Claude Speed, in realtà, sono io. Claude Speed, è il personaggio protagonista di GTA 3, e per tutto il gioco, non dice una parola. In San Andreas, lo avete visto in una scena, in cui CJ, lo etichetta, con questo epiteto, fottuto serpente senza lingua. Adesso riuscite a collegare i cavi del cervello, e... ma passiamo al prossimo screen. Next. Volevate la prova, della presenza dei cani, e... ed eccovi accontentati, con uno screen bello fresco. I cani, ovviamente, saranno riprodotti fedelmente, in ogni loro caratteristica. Questo significa che, potranno correre, mordervi, giocare, e persino che va. Se non ci saranno delle cagnette, nelle vicinanze, la vostra gamba sarà la prossima vittima. Si consigliano pantaloni lunghi e tanta voglia di correre. Next. Il Monte Ciliad, già presente in San Andreas, questa volta si trasformerà nella torre di Mordor, dove l'occhio infernale, tutto vede, e tutto sa. Sarà presente inoltre, tutta la terra di mezzo, la frontiera degli Hobbit, e la terra delle puttane elfiche. Ho detto elfiche, elfiche. Quanti bunga bunga, e... un pollo, per ghermirli, e nel buio incatenarli. Ma non voglio spoilerarvi troppo, quindi, concludiamo con l'ultimo screen. Next. Si, vi ho presi per il culo, allegramente. Purtroppo, non è colpa mia, ma di quei cazzoni della Rockstar, che non rilasciano un cazzo di niente, per intrattenerci, durante questa lunghissima attesa, di cinque mesi, che ci separa dal gioco più totale. Io, come avevo già detto nei video precedenti, sono stato felice che il gioco fosse stato posticipato, perché, significa che ci tengono molto alla qualità, però, mi sarei aspettato qualche video in più, qualche altro trailer, o anticipazione ufficiale, anziché, quei cazzo di disegni, che cagano fuori ogni settimana. Non ce ne fotte un cazzo, degli artworks, vogliamo gli screenshot, i vari trailer, e i video anteprima. Avete capito? Bene, speriamo che, nelle prossime settimane, così come nei prossimi mesi, potremmo avere altro materiale per sognare, in attesa del 17 settembre 2013, data astrale divenute copiose. Vi ricordo che, in descrizione, potrete trovare il countdown di Grand Theft Auto 5, per segarvi allegramente. Ora vi saluto, perché la vita è breve. Ciao a tutti merdoni, a presto.